Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovissimo video dei Milanissi del web Allora, questa intro per me è un po' particolare perché sarà l'ultima, non lo so potrebbe essere l'ultima, come avete visto dal titolo potrebbe essere l'ultima dopo tanti, dopo questo praticamente quasi anno di percorso su youtube e oggi, come avete ben visto dal titolo devo, perché mi sembra doveroso, magari anche per quelle 3-4 persone per dire, non pretendo di avere 200 follower come dice il numero degli iscritti perché tutti sanno che un po' con gli amici, un po' con questi, un po' con i follower passivi alla fine non dico sì di mezza, però non ci va lontano dunque a tutte le persone che hanno condiviso l'idea di questo canale e hanno anche, diciamo, appoggiato e che gli è piaciuta questa idea devo comunque tenerli a corrente sulla situazione allora, come sapete, perché ci segue da tanto tanto tempo noi siamo due ragazzi, parlo anche per il mio, tra virgolette, collega che abbiamo creato questa realtà nel lontano ormai, quasi inizio 2019 dunque stagione 2018-2019 partendo su Instagram e eravamo partiti solo come pagina Instagram parlavamo solo di Milan poi mi è venuta questa idea che già mi balenava prima con altri progetti, per esempio di fare una specie di milanista francese ispirandomi al grande interista tedesco e poi non sono mai andato in porto ho detto uniamo già la base che abbiamo e gli ho proposto di unire praticamente già la base che avevamo su Instagram e di creare un progetto su YouTube questa idea gli è piaciuta perché comunque gli è piaciuta e abbiamo comunque fino a maggio portato contenuti questo maggio, fin da metà dicembre 2019 a maggio 2020, nonostante tutta la pandemia la sosta, la cosa, la ripresa abbiamo sempre portato con grandi e grandi discontinuità perché io non sono uno che fa il video anche lui, anche l'altro Milanese poi lui ha avuto sempre il ruolo un po' più di Instagram sempre molti post su Instagram story su Instagram, le grafiche, le copertine le fa lui io mi occupavo praticamente principalmente anche adesso adesso ci riprenderemo anche su Instagram tranquilli con i post e tutto già adesso abbiamo ripreso qualcosina io mi occupavo di sponsorizzare nelle storie no, ricondividere magari quelli con cui facevo le live fare le storie diciamo a pubblicità dei video occuparmi dei video della data di uscita dei video di cosa parlare nei video di tutto quello che concerneva il video nell'ultimo periodo innegabilmente settimana scorsa praticamente un video al giorno poi questa settimana questo video uscirà venerdì da lunedì praticamente a venerdì zero video dunque capite che comincia ad essere importante come come lavoro non voglio dire che è un addio però devo ammettere devo essere sincero sicuramente non usciranno video con la stessa regolarità di questa estate durante la quarantena perché grazie a questo comunque sarò sempre grato a tutti quelli che mi hanno seguito finora saranno ripeto tre o quattro ma comunque per me tre o quattro centomila sarà sempre lo stesso la stessa cosa ho degli impegni che comunque io non voglio abbandonare questo progetto perché è un progetto a cui tengo molto e che a me piace fare piace collaborare piace fare video però diventa veramente impegnativo portare avanti molte cose che io forse lo sapete io gioco a calcio è già un bel impegno comunque più di tre allenamenti a settimana di due ore più la partita al weekend poi la cosa più importante è la scuola adesso rinizierà la scuola dunque comunque è la cosa a cui devo pensare di più sono in terza liceo dunque se tra studiare e fare un video ovviamente magari la volontà è più di fare un video come i ragazzi magari tutti i ragazzi vorrebbero però ci sono anche priorità e bisogna focalizzare dare delle precedenze poi grazie a youtube ho avuto anche la possibilità avrò la possibilità di partecipare a vari progetti di cui adesso non vi sto a parlare vabbè ce n'è uno che ho già annunciato su instagram con instant football dei ragazzi francesi tra l'altro molto accoglienti mi hanno fatto entrare in un gruppo whatsapp subito si è creato una grande atmosfera dove farò praticamente l'inviato in poche parole dove farò il reporter della nostra serie A per loro che sono una specie di web tv però francese dunque questa cosa la faccio in francese e questo è ogni lunedì dalle 4 e mezza alle 6 e mezza dunque l'asso di tempo non è che sto due ore con loro però comunque ho due ore dove devo stare irreperibile perché dovrò entrare a parlare con loro di queste cose dunque credo molto probabilmente cercherò anche con l'altro milanista del web almeno di portare avanti più o meno regolarmente la pagina instagram e la pagina youtube diminuiranno le live però cercherò per esempio che ne so nel tardo pomeriggio o in prima serata di fare qualche live per dire così che non vado a fare troppo tardi che poi la mattina mi devo svegliere anche presto e varie cose con gli allenamenti alle 6 mi devo svegliare dunque tante cose che cercherò 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 di portare avanti ma non vi do la sicurezza se vedo che queste cose non è sostenibile dovrò mettere da parte almeno momentaneamente per adesso youtube e poi vedere se in un futuro prossimo remoto riuscirò anche a riniziare con le live con con i vari video le varie collaborazioni anche partecipare ad altre live e cercherò di dividere il mio tempo libero che comunque è ristretto facendo un liceo dunque non proprio una scampagnata dovrò far conciliare tutte tutte queste attività calcio le varie cose che girano intorno al web che grazie a questo canale youtube ripeto che nel mio piccolo grazie a questo canale youtube ho avuto l'opportunità e avrò l'opportunità di svolgere dunque sono cose che prima di tutto ringrazio voi perché mi avete comunque seguito magari per molti saranno numeri negativi per me no perché comunque sono partito da da zero comunque su youtube nel 2020 ormai nascono youtube ogni youtuber ogni giorno ogni giorno nascono canali di youtube soprattutto di calcio che è molto è un mondo molto saturo dunque uscire adesso non è più come due tre anni fa due tre quattro anni fa dove riuscivi portare un'idea diciamo innovativa youtube ti ha anche le possibilità grazie al suo sistema di crescere adesso non è più così però comunque ho fatto più di 140 iscrizioni molti comunque più del 40% delle persone che vedo nel mio video non sono iscritte dunque fate il conto immaginatevi se 40% su 50 fate il conto che in media io faccio più o meno 100 visualizzazioni a video sono comunque 50 più di 50 fai 60 siamo già quasi sui 200 iscritti se tutti si iscrivesse dunque io ringrazio tutti quelli che mi hanno mi hanno diciamo fatto crescere in questo percorso dunque ringrazio i vari Piero 4U2Fantasia Luigi Inter Valeriani l'altro milanista del web ovviamente che mi ha aiutato con la pagina instagram con le grafiche sempre non è un addio cioè spero non sia un addio vi terrò aggiornati comunque su instagram spero che questo video sia visto il più possibile da tutti almeno quelli che ci tengono e vedremo cercherò ovviamente non l'ho detto forse però farò di tutto di tutto per portare avanti questo canale perché è una delle mie passioni più grandi e veramente non la trovo una perdita di tempo cioè non mi sono ancora stancato di farlo se un giorno mi stancherò dirò non ho più gli stimoli per andare avanti su questa piattaforma che mi toglie tempo e non trovo più gli stimoli per farlo dunque è stato un bel progetto e finisco lì il canale non chiuderò mai il canale non cancellerò mai il canale non renderò mai i video privati perché secondo me resterà sempre comunque una pagina tra virgolette di vita dunque una cosa che resterà che io fra 30 anni se youtube esisterà ancora potrò andare ancora lì e far vedere cosa facevo io 30 anni prima dunque una cosa anche per voi vedere quei video vecchi magari dunque io non cancellerò mai però voglio dirvi che ci sarà una netta una netta diminuzione di contenuti su questo canale e tutto quello che ci gira intorno dunque gli instagram live anche su altri canali live sul mio e post tutte queste cose cercherò come ho detto prima di portare avanti tutto ve lo assicuro cioè è scontato ve lo dico già che non sarà più come quest'estate dunque dove riuscivo magari a fare anche video live non dico tutti i giorni però molto spesso è questo non vi chiedo neanche di lasciare like spero solo di che questo video l'abbiate visto in tanti almeno fino all'ultimo e io vi saluto e non vi chiedo le solite cose condividere perché questo video non serve far pubblicità a cose io lo metto qua vi dico se chiudere al canale cosa chiuderò nuovi progetti nuove cose e io vi saluto bella ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti